Perfetta, ma poi abbia fatto il potiere con un tocco sotto, a pochi metri. Hanno aperto le barcature con questo gol, 1-0. Lemina. Warpros. Alderweire. Cercano il buco della difesa avversaria. Eberbanega. Lemina. Attenzione perché è pericoloso. Ottimo il tichitacca qui. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Cristiano Ronaldo. Pallone profondo, pericoloso. È un po' filtrante per Chiesa. Prova a colpire. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, una per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Eh, si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. In presa non facile per quanto si è visto finora. Conteggio che è cambiato, ora conducono per due reti a zero. La formazione ospite, con il numero 7, Cristiano Ronaldo. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Occhio a Cristiano. È un muro Alderwey. E il pallone entra. Ed è gol. Tutto fermo. Gol annullato per posizione di offside. I giocatori chiedono spiegazioni all'arbitro e al suo collaboratore. Anche se il fuorigioco mi è parso che ci fosse. Occasione. Falla ancora in gioco. Pericolo. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Eh beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura. L'attaccante era già pronto a esultare. Cross in mezzo. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione. Ha impattato bene la palla. Ne è uscita fuori una conclusione. Beh, solo leggermente imprecisa. Ever Banega. Ma gioca sul Kun. Banega. Warpros. Difende bene il pallone. Lemina. C'è il tocco sulla fascia. Palla che torna in possesso. Lemina. Può rimettere in piedi la partita. Nessun problema con l'uscita del portiere. C'è l'errore. Perdono palla. Il guardaline non ha dubbi e indica il fuori gioco. Il guardaline ha seguito molto bene l'azione. Non ha avuto esitazioni. Ah, che ingenuità. Si è disinteressato completamente dai difensori lasciandosi attrarre solo dal pallone fuori gioco. Chilometrico. Che ingenuo. Ciro immobile. Apre il gioco. Brutto cross. C'è il recupero. Azione pericolosa. Sventata. Franco Servi. Chambers. Pickford. Coleman. Prova a sfruttare le corsie. E il Kun Aguero. Ottima chiusura difensiva. Grande recupero. Buona qui la lettura del difensore. Potrebbe grossare. Occhio al Kun. Buona qui la lettura del difensore. Puntuale qui il difensore nel recupero. Intervento così così del difensore. Intervento ruvido questo. Achimi. Barella. Si libera la grande. Gravissimo qui l'errore dell'attaccante. A tu per tu col portiere. Forse ha avuto paura. Forse l'ha colpita male. Ma da lì. Doveva fare decisamente meglio. Chambers. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Ecco Banega. Il rinvio di Koulibaly. CR7. Occhio cerca l'area di rigore. Occhio al tocco verso il mobile. Lemina. Lancio profondo interessante. Non è riuscita a sfruttare questa occasione. Poteva essere una buona opportunità. Zilinski. Arbitro che dice che può bastare per adesso ovviamente. Tutto pronto. Comincia la seconda frazione. Zilinski. Koulibaly. Alessio Romagnoli. Mette ballo in profondità per il compagno. Può colpire da lì. Giocatore capace come pochi di spaccare le partite. Qui non poteva sbagliare Federico Chiesa. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito di fatto il gol. Ripartezza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere. E non ha sbagliato. Sfruttato la perfezione. La chance che gli è capitata. Bravo. Lemina. Warpros. Servito Albert Weyland. Chambers. Il tocco per Albert Weyland. Alder Weyland. Lemina. Tocca per Banega. Possesso gestito male dai Nutmex. Hakimi. Occhio al tocco verso Immobile. e il pallone tenisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Questo è il replay del gol. Una ripartenza perfetta. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del potere. Non poteva fare molto da quella distanza. Una partita a senso unico. 4 a 0 per loro. Numero 10. Ciro Immobile. Nutmex che perdono banalmente il pallone. Interessante la verticalizzazione qui. Acchimi. Suggerimento per il Kun. Cerca lo spazio. Aguero. Ottimo il pallone filtrante. Banega. Chambers. Ecco Banega. Torreira. Si ripartirà dunque con la rimessa dal fondo. C'è un cambio. Zilinski. Ansaldi. Palla giocata sugli esterni. Immobile. Spazio davanti a sé. Tocco sotto elegante che scavalca il portiere. E ci viene riproposto il tocco sotto di prima con cui l'ha messa alle spalle del portiere. Semplicemente delizioso. Davvero incontenibili. Continuano a cercare i gol e a trovarlo. I tifosi di casa sembrano mutoliti di fronte alla prestazione degli avversari. Si pierde. Sono stati inferiori in ogni zona del campo. Non sono riusciti a opporre un'adeguata resistenza. Forsberg. Brutto l'errore dei knapnecks. Prova a servire profondo il compagno. Riceve palla. Posizione interessante. Prova il pallonetto. Ha scavalcato il portiere con uno splendido pallonetto. Eccolo il replay del gol. C'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno al tiro. Ha poi visto il portiere fuori dai pali e l'ha scavalcato. Un delizioso pallonetto. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Alderwein. Franco Serbi. Lecce la palla a Lucas Torreira. Eber Banega. Ecco Torreira. Chambers. Alderwein. Servito Forsberg. Barnes. Lecce la palla a Lucas Torreira. 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 La riferna dall'attacco dell'avversario. Forsberg. Ecco Torreira. Può colpire da lì. Buona qui la lettura del difensore. Anzaldi. Palla profonda di Immobile. Occhio all'imbucata. Può essere pericoloso. E c'è il gol. Continuano a regalare grande calcio. Gol e non hanno intenzione di fermarsi. Con il numero dieci. Giro Immobile. Giro Immobile. Franco Serbi. Chambers. Torreira. Mancano dieci minuti alla fine della gara. Eber Banega. Forsberg. Barnes. Bravissimo. Qui l'infensore che recupera. Giro Immobile. Che si è tornato col pallone. Occasione d'oro. Attenzione. Una partita magnifica. Impreziosita da questi tre gol. Il replay dei gol. Evidenzia il cross calibrato. La perfezione. Bisognava solo spingere là dentro. Da lì. La messa di testa in rete. Senza nemmeno dover staccare. C'è una sola squadra in campo oggi. Come dimostra anche il punteggio. Siamo entrati negli ultimi cinque minuti di gara. Si riversano la metà campo avversaria. In Atmex. All'Italia indietro il pallone al compagno. Zielinski. Palla che termina in out. Sarà a fallo laterale. Zielinski. Cristiano Ronaldo. Barella. Attenzione. Pericolo. Pulisce la tre quarti. Evitando guai peggiori. Possesso palla per gli avversari. altri centoventi secondi da giocare. Banega. Ma non è perso. Buona intuizione qui. Servito molto bene Immobile lì. Ed è gol. Rete. Regia ci ripropone l'azione del gol. È frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Cristiano Ronaldo. Ci ha poi messo del suo per battere il potere con questo. Game over. È un bel colpo per gli ospiti. Tre punti fuori casa. Immobile. Un bel colpo per gli ospiti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.